Buonasera a tutti, allora vorrei parlare di un atteggiamento che non dovrebbe essere eseguito da chi ha un minimo di conoscenza oppure sta studiando qualcosa, in questo caso parliamo di sovranità. Non è la prima volta che vedo delle situazioni atipiche e irrispettose, ma ultimamente questi giorni passati stava girando un video di un dialogo, di un blocco da parte di carabinieri e dei tizi in macchina. Praticamente cosa succede? Che visto lo stato atipico sicuramente dobbiamo dire che è uno stato che fa pensare, ci stanno delle domande sull'applicazione di queste reclusioni forzate, di queste multe, di queste autocertificazioni sicuramente atipiche e ingiuste perché non corrispondenti a una realtà, però questo non tutti possono vederlo in questo momento, chi lo vede sa che c'è qualcosa che non torna. Il punto dove voglio tornare è che in un discorso di sovranità individuale, cioè l'atteggiamento in cui ci si mette a conoscenza che noi siamo degli esseri liberi, degli esseri umani e non dei numeri o non delle lettere maiuscole segnate su dei documenti. Quindi quando tu capisci questo, capisci che oltre a quello che sta succedendo adesso, ma veramente questo da anni è sempre successo, noi veniamo consegnati, siamo di proprietà di un sistema. Infatti il termine registrare, register, significa consegnare a re, in questo caso il re è occulto, però fa parte di questo sistema. Giungendo al punto, cosa succede? C'è una situazione in cui le persone capiscono e cercano di applicare e vivere questa, chiamiamola sovranità individuale, anche se è un termine secondo me non confacente a quello che vorremmo esprimere. Quindi la sovranità individuale è la libertà di autodeterminarsi, sapere di fare del bene, quindi di non fare del male a nessuno, di non frodare nessuno, di non ingannare nessuno, di non mentire, quindi autodeterminarsi autonomamente e gestirsi senza bisogno di avere delle leggi create dall'uomo. Quindi in pratica cosa significa? Significa obbedire a delle leggi di diritto superiore, di gerarchia superiore. Sono le leggi andando avanti di diritto superiore, quindi leggi internazionali, costituzioni, diritti dell'uomo, ratificati, ovviamente, che diventano poi applicazioni a cui riferirsi, ma anche se non fossero, comunque sono veramente dei precetti, delle indicazioni veramente eccezionali, purtroppo poco applicati, quindi validi sono nella parola, quindi poi ci sono le leggi universali, quelle che ho citato prima, insomma, se uno vive in sintonia con l'universo, con la natura e rispetta gli altri suoi simili, non ha nessun problema. Quindi questa persona, vuole fare il nome, ma preferisco non farlo, comunque, anche perché è stato ripubblicato un video tutto occultato, ovviamente ha prestato il fianco, nonostante partissero dai presupposti, ha prestato il fianco veramente alla critica e all'ingiuria. Ho letto dei commenti che non sono mai carini, io li disapprovo totalmente sempre, però in questo caso sono quanto mai appropriati non i commenti in sé, ma la critica al suo comportamento. Io cito questo comportamento, ma in realtà potrei citare tanti altri comportamenti di altri sovrani che si sentono superiori solo perché hanno conosciuto quattro leggiuccole, leggiette, leggi piccoline che potrebbero farli sentire superiori. O meglio, potrebbero, loro si sentono superiori conoscendo questi principi, no, e però non li applicano nella loro essenza fondamentale che è quello del rispetto, dell'amore, dell'essere umano, chiunque, anche quello che hai di fronte, che magari non ha la tua conoscenza. che successe? Le hanno fermati e gli chiedono i documenti e questo gli dice, no, non te li do, ma è con un'arroganza, una saccenza che ho percepito molto sgradevole. Hanno trovato di fronte un funzionario, forse dell'ordine, un carabiniere credo mi sembra, gentile, tranquillo, sicuro, perché altrimenti alcuni, se beccavi quello ignorante, sicuramente non andava così liscia. Quindi, quello che voglio dire, i principi sono giusti, è il metodo di applicazione che è errato. Poi gli fa vedere anche dei fogli, sicuramente non so che cosa gli fa vedere, probabilmente una legale rappresentante o qualcosa del genere, gliela fa vedere a finestrino, se mi chiuso, è chiuso. Quindi io non sto dicendo che sia tutto sbagliato, sto dicendo che il modo, l'atteggiamento è errato. Quindi, primo il documento, ok, il documento si può mostrare, non è detto che bisogna consegnarlo, bisogna identificarsi, quindi è giusto, però l'atteggiamento, quindi spiegarlo. Quando si attuano queste cose, io generalmente le sconsiglio perché fanno perdere tantissimo tempo, vale la pena dare il documento, pronto, via e così via. Insomma, a che serve perdere 30, 40, in quel caso è stato tra virgolette veloce, però dai il documento, controlla la firma e va via, è pronto. Invece, se vuoi veramente e sarebbe anche bello, ottimo, allora in quel caso spieghi gentilmente, buongiorno, non posso per questo diritto, guardi, si informi, le do un foglio, serve molto gentile, poi gli ha dato questo foglio, non glielo posso dare, se lo deve leggere. È un foglio comunque lunghissimo, si può leggere sul finestrino, deve stare scomodo anche, cioè, e non capire l'altra, la mancanza di empatia di fronte a quel funzionale forza dell'ordine che, per quanto possa essere ignorante di alcuni principi di diritto superiore, è sempre un essere umano, comunque un fratello che ha, in quel caso, veste un ruolo, una divisa particolare. Quindi dirlo a conoscenza di altre cose, spiegagli, non è che gli fai vedere il foglio, fatti delle fotocopie, costano pochi centesimi, quante volte ti potranno fermare? Tre volte, cioè non è che devi fare volantinaggio, con 5, 10, 20 centesimi, 3, 50, 1 euro, ci fai 20, 30 copie, a occhio, quante volete, poi a seconda di dove le fate. E dai una, gli dai fai una copia e se la legge, insomma, è anche una divulgazione dei principi e quindi fare anche un certo tipo di giusto, giusta divulgazione sui principi che sta applicando e sta cercando di applicare. Quindi, cosa voglio dire? Per concludere, vabbè, poi non entro, poi c'è stata questa, cioè poi la cosa è continuata, non so per quanti minuti, che si potrebbe semplicemente risolvere in modo più semplice, più diretto, più veloce, una questione che invece prende tanto tempo e anche mal gestita, perché se volevi gestirla bene, gli devi le fotocopie, gli devi i documenti, lo informavi, poi un'altra cosa, si fanno questa sovranità individuale, ci si sente superiore perché lì è l'arroganza, poi l'unico principio per applicare queste norme di diritto veramente internazionali è essere completamente autodeterminato, quindi non dipendere dal sistema, ma quando gli rispondi, no, vada a fare l'aspetto, vada a fare una passeggiata, sei dentro il sistema, usi una macchina nel sistema, usi la benzina che vendono loro, beh, questo è un principio forse che aggiungo io per concludere, ma non è un principio forse condiviso da tutti, però la soluzione unica, se vuoi fare il sovrano, devi autodeterminarti in modo autarchico, indipendente, se vuoi fare l'autodeterminato, devi fare anche l'auto, devi autoprodurre tutto quanto da solo, vabbè, questa è una cosa che aggiungo io, quindi questo è un principio non solo su quello, ma quindi su altri principi, su altre norme, se volete fare i sovrani, fatelo in maniera coerente, primo, e secondo, fatelo in una maniera simpatica e rispettosa della persona, dell'essere che hai di fronte, perché rispettare la vita e il lavoro altrui, anche se in quel momento non ha le tue conoscenze, sicuramente è un principio molto, molto, molto importante a livello di onore, perché chi fa la sovranità sa quanto è importante comportarsi nel rispetto di qualsiasi altro essere umano, in quel caso non l'ho visto, non è la prima volta, ci sono stati tanti altri esempi di persone che si autodeterminano e si sentono superiori al mondo, litigano, poi se trovano il funzionario, da quello che sta sul treno che chiede i biglietti al carabiniero o la polizia che chiede dei documenti, cercate di essere corrispettivi, siamo in uno stato di polizia, c'è uno stato veramente atipico, ci sono delle leggi marziali assurde, non le commento in questo video, non voglio commentarle perché si scoprirà presto cosa c'è dietro, il punto è, se anche abbiamo dei diritti, dobbiamo esercitarli con grande rispetto e passione, passione significa sentire la cosa e avere anche empatia verso l'altra persona che sta chiedendo i documenti, che poverino, se non sa le cose, se noi non gli spieghiamo, rimarrà sempre in quella ignoranza, anzi in più avrà la conoscenza di essere, di aver avuto a che fare con una persona molto ignorante, ignorante non nel senso ignorante, ignorante delle buone maniere, delle buone educazioni che sono importantissime, questo mi ricordo un altro tempo fa, anche un carabiniere che conosco che disse, abbiamo fermato uno che diceva io sono indipendente, voi siete, insomma diceva tante cose che il carabiniere nella sua ignoranza di quegli argomenti non sapeva, quindi non sapeva rispondere, non sapeva di che si trattava, quindi prendono quella persona lì per un pazzo, in questo caso del video che cito io si sono anche comportati un po' di dignità, diciamo di coerenza, però c'è stata questa saccenza, questa arroganza di sentirsi superiore di fronte a un altro, quindi questo secondo me è da eliminare, vabbè, comunque grazie, ci tenevo a fare questo commento, a condividerlo con voi, non so se sono riuscito a dire tutto, ci sono sempre i commenti per aggiungere cose, fare delle aggiunte anch'io nella descrizione del video, grazie ancora e al prossimo video, ciao a tutti!